Dio e benedica fratelli che bello è potervi salutare e sapere che ci sono fratelli in Asia, nei cinque continenti, paesi come il Giappone, l'India, la Russia, tutta l'Europa, l'Italia, che bello, in tutta l'America, che meraviglia. Quando conoscevamo questo cammino, questo evangelio, eravamo due e tre in Panama e a Bogotà erano circa 50 credenti. Che bello, fratelli, come Dio ha compiuto a questi primi fratelli questa promessa data per mezzo della nostra sorella, che il suo evangelo si sarebbe esteso. Fratelli, che bello è poter contemplare tutte queste bellezze, tutte queste meraviglie, tutte queste benedizioni. Che bello poter ascoltare testimonianza da diversi luoghi. È una cosa grande e meravigliosa che Dio fa. Questo è contemplare. E questa pandemia non ci ha privato di queste benedizioni di contemplare. Anzi, è stato più grande perché ci siamo resi conto della presenza, dell'esistenza del nostro Dio. e il salmista ha scritto, ispirato da Dio, nel Salmo 27, nel verso 4, una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza dell'Eterno. Eh sì, signore, lo contempliamo. fratelli, quando insegnò riguardo le beatitudini, si stava identificando perché lui insegnava quello che è, che è bello, che ci permetta di godere di una di queste beatitudini, beati i puri di cuore perché loro vedranno Dio. Nella Chiesa lo vediamo, nella nostra vita pratica lo vediamo e lo vediamo attraverso le promesse compiute, i miracoli, le guarigioni, lo vediamo. Paolo ha scritto nel Libro dei Romani, capitolo 1, verso 20, riguardo la natura di quello che è stato fatto dal nostro Dio. e dice così questo verso, dice così questo verso, infatti le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili, non abbiamo scuse. Il grande mare, le montagne, gli alberi, le cascate, questo suono rilassante della mente del nostro Dio proviene. Lui ha detto, lo ha detto e allora lo contempliamo, lo contempliamo attraverso i fatti della nostra vita e lì vengono uccelli a cercare da mangiare, che bello vedere gli uccelli, cantano le loro piume e mi fanno ricordare che il Signore diceva che se lui l'avesse, l'alimentazione ci alimenterà ancora di più a noi che siamo i suoi figli. Che bello è contemplare il nostro Dio attraverso la natura, attraverso il vento, quando sentiamo il rumore del vento, che non sappiamo né di dove siamo né di dove andiamo, e fino al vento è stato menzionato dal nostro Dio nel Salmo 65 la nostra sorella Maria Luisa parlava che la natura canta, loda Dio, quanto più noi. E allora la pandemia non ci ha privato e non ci ha impedito, non è stato un ostacolo per vedere la sua grandezza, per vedere le sue meraviglie. E sapere che siamo testimoni del potere di Dio. Che bello questo cantico, questo coro, perché sono testimone del potere di Dio, perché lui lo ha detto, riceverete il potere. Che bello quando ci congreghiamo e ci congregravamo e notavamo la presenza del nostro Dio nelle testimonianze, che è bello. Questo non è stato un ostacolo. E attraverso le reti sociali ascoltiamo, vediamo, però mi emoziona che ci sono testimonianze perché Dio non si è fermato e è rimasto lo stesso di ieri, di oggi e per i secoli dei secoli. Evidenziava il Signore un momento beati coloro che credono senza vedere e noi crediamo senza vedere. amiamo al Signore senza vederlo. Lo seguiamo senza vedere. Lo adoriamo senza vederlo. Però sappiamo che Lui è lì. Lui è la nostra retroguardia. Sta alla nostra destra. Sta con noi. Un suo spirito santo lo testimonia quando ci fa parlare in lingue, quando abbiamo ricevuto profezia, quando si compie. Fratelli, nulla di questo è stato un ostacolo. Nulla di questo ci ha tolto la felicità. Certo, uno a uno manca il luogo che può visitare, dove lavorava, però le chiese anche, però no. Che bello che questa assenza di luoghi ci permette di contemplare la meraviglia del Signore. che bello il mio Signore. Che buono il mio Signore. Dice un verso ai Corinzi, seconda lettera ai Corinzi, capitolo numero 4, seconda epistola ai Corinzi, capitolo 4, verso 18. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Benedetto il Signore. E allora non ci ispiriamo a nulla per amare, per ricrearci, che siamo sotto la sua ombra. Il Signore ha detto chi mi ama osserva i miei comandamenti. E davvero quando uno si sforza per applicarli uno vede i risultati. Che bello, fratelli. Che bello il nostro Dio. Che modo semplice per contemplarlo. Ha detto il Signore anche e questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Parleranno in nuove lingue, imporranno le mani, anche se verranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Nel capitolo numero 12 dei Romani parlava del dono della profezia. Nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, parlava dei doni e tra questi doni quello di profezia. Tutte queste letture ci aiutano o ci permettono di contemplare la bellezza del nostro Dio che grande è il mio Signore. Anticamente i re o le nazioni intorno al popolo di Dio temevano il popolo di Dio perché il Dio che loro avevano faceva protezia. Vedevano loro che erano benedetti da questi Dio e che li difendeva e che le altre nazioni soffrivano questi colpi che il popolo di Dio aveva un Dio grande e meraviglioso e con la mano dura al nostro Dio si contempla la grandezza del nostro Dio e per questo lì a Gerico Dio ha avuto misericordia di una donna che ha ricevuto le spie dei giudei perché si era creata una reputazione riguardo a questo Dio grande e meraviglioso e che loro non vedevano succedevano le cose e così oggi noi si vedono le cose il Signore diceva a un discepolo mostraci il Padre e il Signore diceva quanto tempo che è stato con voi e non mi avete visto Dio nel Signore Gesù Cristo Dio si è fatto carne non era vedere il suo viso era vedere questa essenza per questo Paolo ha scritto che l'uomo naturale non percepisce le cose che sono di Dio e questo discepolo non ha percepito che Dio stava in Gesù Cristo riconciliando il mondo riconciliando il mondo non si è reso conto non ha percepito neanche quando c'è stata la trasfigurazione quando ha camminato sulle acque quando scacciava via i demoni quando dava guarigioni ai ciechi ai paralitici risuscitando morti non lo vedevano che tristezza ah il miracolo però il Signore diceva la generazione cerca perversa e adultera cerca segnali e allora dovevano vedere più in là ed è quello che di cui stiamo godendo nella Chiesa di Dio ministeriale di Gesù Cristo internazionale che è in tutti i luoghi di questo mondo una Chiesa piena dello Spirito Santo dove i credenti godono del potere dello Spirito Santo dove i credenti sono testimoni però fratelli guardiamo e contempliamo la sua bellezza quando si scrive riguardo i frutti dello Spirito Santo così è il mio Signore e così ci chiede che siamo noi Dio è amore Dio è misericordia Dio è bontà Dio è pazienza così è il suo popolo anche così è il nostro Dio tutti questi insegnamenti tutte queste meditazioni contemplare le meditazioni che riceviamo attraverso queste meditazioni si nota questa presenza del nostro Dio contemplare questo Dio vivo questo Dio meraviglioso che è benedetto per i secoli dei secoli oh mio Signore della gloria ti chiedo nel nome del Signore Gesù che stia tu dando benedizioni su ogni fratelli e che se ci sono malati che sia la tua mano potente agendo la tua mano perché nel nome del Signore Gesù i fratelli ricevano di te il dono dello Spirito Santo guarigioni Cristo mio spezza le catene dacci un cuore diverso e permettici aprire i nostri occhi e contemplarti e contemplarti Signore godere in te Signore fratelli un saluto cordiale grazie Dio vi benedica termino con una breve testimonianza non è nulla di trascendentale però per me è significato tanto molti anni fa stavo dormendo per addormentarmi e lo Spirito Santo mi ha detto apri i tuoi occhi e guarda contempla contemplami e apri io ho aperto i miei occhi e ho guardato la parete e dicevo cosa mi ha voluto dire il Signore non voglio dire che adesso lo comprendo però penso di aver compreso nel Salmo 27 verso 4 vedere te Signore contemplando la tua bellezza i tuoi prodigi Dio vi benedica in modo grande fratelli Dio vi benedica